Capitolo 23 Coriolanus sentì un brivido corrergli lungo la schiena e percepì l'agitazione delle altre reclute. «Scappa, Lil! Scappa! Scappa!» Il grido montò sino a dargli l'impressione di avvolgerlo, rimbalzando sugli alberi e assalendolo alle spalle. Per un attimo pensò di essere impazzito. Disobbedì agli ordini e girò la testa di scatto, quasi aspettandosi di vedere un un'orda di arlo aprirsi un varco nel bosco brulicante dietro di lui. Niente. Nessuno. Poi la voce si levò di nuovo, da un ramo qualche metro sopra di lui. «Scappa, Lil! Scappa! Scappa!» Alla vista del piccolo uccello nero, tornò con il pensiero al laboratorio della dottoressa Gol, dove aveva visto le stesse creature appollaiate in cima a una gabbia. Ghiandai e chiacchierone. Beh, il bosco doveva essere pieno di quelle creature, che imitavano l'ultimo grido di Arlo come avevano imitato i lamenti dei senza voce nel laboratorio. «Scappa, Lil! Scappa! Scappa! Scappa, Lil! Scappa! Scappa! Scappa, Lil! Scappa! Scappa!» Quando Coriolanus tornò sull'attenti, vide il turbamento che gli uccelli avevano suscitato nell'ultima fila di reclute, nonostante gli altri pacificatori fossero rimasti indifferenti. «Ci sono abituati ormai», pensò. Non era sicuro che lui si sarebbe mai abituato a sentir ripetere l'ultimo grido di morte di qualcuno. Già ora si stava trasformando, le parole di Arlo stavano diventando qualcosa di simile a una melodia. Una serie di note che rispecchiavano l'intonazione della sua voce, in qualche modo più inquietanti di quanto fossero state le parole stesse. Tra la folla, i pacificatori avevano preso Lil e la stavano portando via. La donna mandò un ultimo gemito di disperazione, e gli uccelli ripresero anche quello, prima come voce e poi come parte dell'arrangiamento. Il linguaggio umano era sparito, e ciò che restava era un coro armonioso dello scambio tra Arlo e Lil. «Ghiandai e imitatrici», borbottò un soldato davanti a lui, ibridi schifosi. Coriolanus ricordò il suo dialogo con Lucy Gray prima dell'intervista. «Beh, sai come si dice? Non vendere le penne della ghiandai e imitatrice prima di averla uccisa». «La ghiandai e imitatrice? Ho proprio idea che te le inventi, queste cose». «Questa no, la ghiandaia e imitatrice è un uccello vero». «E c'è anche lei nel tuo spettacolo?» «Non è il mio spettacolo dolcezza, è il tuo, di Capitol City, a ogni modo». Ecco cosa aveva voluto dire. Lo spettacolo di Capitol City era l'impiccagione. La ghiandaia e imitatrice? Una qualche specie di uccello, non una ghiandaia chiacchierona. Diversa, in un certo senso. Una creatura locale, forse. Però era strano. Il soldato l'aveva definita un iberdo. Aguzzò la vista per tentare di individuarne una in mezzo al fogliame. Adesso che sapeva cosa cercare, trovò molte ghiandaie chiacchierone. Forse le imitatrici erano identiche. Ma no, un momento, là! Un po' più in alto. Un uccello nero, appena più grande delle ghiandaie chiacchierone, allargò di colpo le ali, mettendo in mostra due macchie di un bianco accecante, mentre sollevava il becco per cantare. Coriolanus fu certo di aver avvistato la sua prima ghiandaia imitatrice, e la detestò all'istante. Il canto degli uccelli turbò i presenti, e i sussurri si fecero brontolì, che a loro volta si trasformarono in proteste, quando i pacificatori spinsero l'île nel furgone su cui era arrivato Arlo. Coriolanus ebbe paura delle capacità latenti di quella massa di persone. Erano forse sul punto di rivoltarsi contro i soldati? Senza che gli venisse chiesto, sentì il proprio pollice togliere la sicura al fucile. Una raffica di proiettili lo fece sobbalzare e cercare subito corpi insanguinati, ma vide solo uno degli ufficiali abbassare il fucile. L'uomo, che aveva solo sparato in mezzo agli alberi per mettere in fuga lo stormo, rise e rivolse un cenno al comandante. Tra gli uccelli in volo, Coriolanus distinse decine e decine di ali balenanti di bianco e di nero. Gli spari inibirono i presenti, e lui vide i pacificatori allontanarli gridando, «Tornate al lavoro!» e «Lo spettacolo è finito!» Mentre il campo si svuotava, continuò a restare sull'attenti, sperando che nessuno avesse fatto caso al suo nervosismo. Quando tutti si furono ammassati sul camion per tornare alla base, il maggiore disse, «Avrei dovuto avvertirvi riguardo a quegli uccelli!» «Cosa sono esattamente?» chiese Coriolanus. Il maggiore sbuffò. «Un errore, se vuoi il mio parere!» «Un'ibridazione!» insistè Coriolanus. «Più o meno!» «Beh, ci sono loro e c'è la loro prole!» rispose il maggiore. Dopo la guerra, Capitol City liberò tutti gli ibridi di ghiandai a chiacchierona perché si estinguessero. E così avrebbe dovuto essere, visto che erano tutti maschi. Ma quelli furono attratti dalle femmine di Mimo Locali, che a quanto pare si dimostrarono disponibili. Così adesso ci ritroviamo a fare i conti con questi sgorbi di ghiandai e imitatrici. Tra qualche anno, tutte quelle nuove saranno in grado di accoppiarsi tra loro. Coriolanus non aveva nessuna voglia di trascorrere i vent'anni successivi ad ascoltare le loro serenate alle esecuzioni locali. Magari, se mai fosse diventato ufficiale, avrebbe potuto organizzare una battuta di caccia per sgombrare il bosco da quelle creature. Ma perché aspettare? Perché non proporlo adesso, per le reclute, come una sorta di esercitazione di tiro? Di sicuro quegli uccelli non piacevano a nessuno. L'idea lo fece sentire un po' meglio. Si girò verso Sejanus per parlargli del suo progetto. Ma Sejanus era cupo in viso come quando si trovava a Capitol City. «Cosa ti prende?» L'altro teneva gli occhi fissi sul bosco mentre il camion si allontanava. «A questo non avevo proprio pensato. Cosa vuoi dire?» chiese Coriolanus. Ma Sejanus si limitò a scuotere la testa. Una volta alla base, restituirono i fucili e a sorpresa vennero lasciati liberi fino al rancio delle cinque. Subito dopo essersi cambiati e aver indossato di nuovo la tuta mimetica, Sejanus borbottò qualcosa sullo scrivere a ma e scomparve. Coriolanus, invece, trovò una lettera che uno dei suoi commilitoni doveva aver ritirato per lui. Riconobbe la bella grafia filiforme di Pluribus Bell e si issò sul letto per leggere. Quello che scriveva confermava per lo più quanto gli aveva già detto la cugina. Pluribus si dichiarava a disposizione degli Snow sia per vendere i loro beni sia per dare a Tigris e alla signora nonna un alloggio temporaneo finché non avessero risolto i loro problemi. Ma fu soprattutto una parte della lettera a colpire Coriolanus. Mi dispiace tantissimo per com'è finita tutta questa storia. La punizione che ti ha inflitto Casca Highbottom mi sembra eccessiva e mi ha spinto a farmi delle domande. Credo di averti detto che lui e tuo padre erano amici per la pelle all'università. Però ricordo che ebbero una lite poco prima di terminare gli studi. Fatto molto insolito per loro. Casca era inferocito. Diceva di essere ubriaco e che l'intera faccenda doveva essere uno scherzo e tuo padre disse che Casca avrebbe dovuto ringraziarlo che gli stava facendo un favore. Poi tuo padre se ne andò ma Casca rimase a bere da me fino alla chiusura. Gli chiesi cosa succedeva ma lui rispose solo come falene verso la fiamma. Era decisamente sbronzo. Pensavo che alla fine avessero appianato le cose ma forse non è stato così. Poco tempo dopo hanno cominciato a lavorare tutti e due e io non li ho visti quasi più. La gente volta pagina. Quel frammento di storia diede a Coriolanus la spiegazione più plausibile che avesse ottenuto fino a quel momento del perché il decano High Bottom lo odiasse. Una lite. Uno screzio. Capì che in quell'occasione non avevano appianato un bel niente a meno che non avessero avuto un altro diverbio anche in seguito visto il rancore con cui il decano aveva parlato di suo padre. Che ometto meschino era High Bottom ancora lì a leccarsi le ferite per un litigio avuto a scuola. Persino adesso che il suo presunto persecutore era morto da un pezzo. Non riesci proprio a lasciar perdere, vero? Pensò. Che peso potrà mai avere questa storia ora? A cena Smiley, Pertica e Bug vollero sapere tutto dell'impiccagione e Coriolanus fece del suo meglio per accontentarli. La sua idea di usare le ghiandaie imitatrici per il tiro al bersaglio fu accolta con entusiasmo e i suoi compagni lo incoraggiarono a proporla ai superiori. L'unico guastafeste fu Seianus che rimase in silenzio chiuso in se stesso e spinse via al vassoio offrendo la sua cena agli altri. Coriolanus avvertì una fitta di preoccupazione. L'ultima volta che Seianus aveva perso l'appetito aveva perso anche l'equilibrio mentale. Più tardi mentre passavano lo straccio nella sala mensa Coriolanus lo mise con le spalle al muro. Cos'è che ti tormenta? E non rispondere niente. Seianus agitò lo straccio nel secchio di acqua grigia. Non lo so continuo a chiedermi cosa sarebbe successo oggi se la folla fosse diventata violenta. avremmo dovuto sparare sulla gente. Oh probabilmente no disse Coriolanus nonostante anche lui si fosse domandato la stessa cosa. Probabilmente avremmo solo esploso qualche colpo in aria. Perché contribuire a uccidere persone nei distretti dovrebbe essere meglio che contribuire a ucciderle negli Hunger Games domandò Seianus. L'intuizione di Coriolanus era corretta. Seianus stava scivolando dentro un'altra palude etica. Come credevi che sarebbe stato? Voglio dire per cosa credevi di esserti arruolato? Pensavo di poter diventare soccorritore confessò Seianus. Soccorritore ripetè Coriolanus. Come un dottore? No quello richiederebbe una formazione universitaria spiegò l'altro. Qualcosa di più elementare qualcosa con cui potrei aiutare chiunque venga ferito sia di Capitol City sia dei distretti quando esplode la violenza. Perlomeno non farei del male. Non so proprio se riuscirei mai a uccidere qualcuno Corio. Si sentì prendere dall'irritazione. Seianus aveva forse dimenticato che era stato il suo comportamento irresponsabile a portare lui Coriolanus a uccidere Bobbin che con il suo egoismo lo aveva privato del privilegio di poter dire lo stesso di sé. Poi soffocò una risata al pensiero del vecchio Strabo Plint un colosso delle munizioni con un erede pacifista riusciva a immaginarsi le conversazioni tra padre e figlio che spreco pensò che spreco di discendenza e in guerra chiese a Seianus sei un soldato sai lo so penso che in guerra sarebbe diverso replicò Seianus ma dovrei combattere per qualcosa in cui credo e dovrei credere che combattere renda il mondo un posto migliore preferirei sempre fare il soccorritore ma pare che al momento non ci sia molta richiesta senza una guerra c'è una lunga lista d'attesa di persone che vorrebbero essere addestrate per lavorare in ambulatorio ma anche per questo serve una lettera di referenze e il sergente non vuole scriverla perché no? sembra perfetto per te commentò Coriolanus perché sono troppo bravo con il fucile gli disse Seianus è vero sono un ottimo tiratore mio padre mi ha insegnato a sparare fin da quando ero piccolissimo e ogni settimana avevo un'esercitazione obbligatoria per lui fa parte dell'attività di famiglia Coriolanus tentò di elaborare l'informazione perché non l'hai nascosto? credevo di averlo fatto nella realtà tiro molto meglio che in addestramento ho provato a non dare nell'occhio ma il resto della squadra fa schifo si trattenne tu no però sì invece anch'io Coriolanus rise senti penso che tu stia dando troppo peso alla faccenda non è che abbiamo un'impiccagione tutti i giorni e se anche arrivassimo a tanto tu spara per mancare il bersaglio ma le sue parole non fecero che infiammare ulteriormente Seianus e se questo voler dire far finire ammazzati te o pertica o smiley perché io non vi ho protetti insomma Seianus proruppe Coriolanus esasperato devi piantarla di pensare troppo di immaginarti sempre la peggiore delle ipotesi non succederà capito moriremo tutti quanti proprio qui di vecchiaia o di eccessivi passaggi di straccio dipende da cosa ci porterà via prima nel frattempo smetti di colpire il bersaglio o inventati un problema agli occhi o chiuditi la mano in una porta smettila di essere tanto egocentrico in altre parole concluse Seianus beh di essere tanto drammatico sicuramente è così che sei finito nell'arena ricordi? Seianus reagì come se Coriolanus lo avesse schiaffeggiato ma un istante dopo annui è così che per poco non ci ho fatti ammazzare tutti e due hai ragione Corio grazie rifletterò su quello che hai detto un temporale diede inizio al sabato lasciandosi dietro uno spesso strato di fango e un'aria così pesante che Coriolanus aveva l'impressione di poterla strizzare come una spugna aveva cominciato a bramare il cibo salato preparato da cookie e ripuliva il piatto a ogni pasto l'addestramento quotidiano aveva reso il suo fisico più forte più flessibile e lui stesso si sentiva più sicuro di sé sarebbe stato un degno avversario per gli uomini del posto anche se quelli passavano la giornata in miniera non che uno scontro a mani nude gli sembrasse verosimile visto l'arsenale di cui disponevano i pacificatori ma se fosse capitato lui sarebbe stato pronto durante l'esercitazione di tiro tenne d'occhio Sejanus la cui mira pareva essere solo un po' fuori fase bene un calo improvviso della sua abilità avrebbe attirato l'attenzione fosse stato un altro ragazzo a esprimere un parere positivo sul proprio talento forse sarebbe stato sospetto ma Coriolanus non aveva mai avuto l'impressione che Sejanus fosse tipo da vantarsi se diceva di essere un ottimo tiratore indubbiamente lo era e questo significava che sarebbe stato una risorsa preziosa nello sterminio delle ghiandaie imitatrici se fosse riuscito a convincerlo alla fine dell'esercitazione propose la sua idea al sergente e fu soddisfatto dalla risposta che ottenne potrebbe non essere una cattiva idea ci permetterebbe di prendere due piccioni con una fava o io spero anche più di due scherzò Coriolanus e il sergente lo ricompensò con un grugnito dopo un torrido pomeriggio passato in lavanderia a trasportare tutte mimetiche dentro e fuori da lavatrici e asciugatrici a dividerle e piegarle Coriolanus strangugiò la cena e si diresse verso le docce se lo immaginava o la sua barba si era infoltita la contemplò mentre si passava il rasoio sul viso un altro segno che si stava lasciando alle spalle l'adolescenza si tamponò i capelli con l'asciugamano sollevato dal fatto che il taglio a spazzola fosse diventato meno drastico riuscì persino a ottenere qualche ondina qua e là la speranza che quella sera un gruppo si esibisse al forno riempiva il bagno di entusiasmo a quanto pareva nessuna recluta aveva seguito gli Hunger Games di quell'anno ci sarà una ragazza che canta si viene da Capitol City no non viene da Capitol City c'è andata per gli Hunger Games ah allora avrà vinto le facce lucide per il caldo e tutto quello sfregare di asciugamani Coriolanus e i suoi commilitoni uscirono nella sera mentre lasciavano la base la guardia in servizio disse loro di camminare a testa alta immagino che cinque di noi riuscirebbero ad affrontare qualche minatore disse Pertica lanciando occhiate intorno in un corpo a corpo di sicuro replicò Smiley ma se avessero delle pistole loro non possono avere armi qui giusto chiese Pertica legalmente no ma dopo la guerra devono essercene da qualche parte là fuori nascoste sotto le assi del pavimento tra gli alberi e così via si può comprare di tutto se si hanno i soldi disse Smiley con un cenno d'intesa ed è chiaro che loro non ne hanno puntualizzò Sejanus trovarsi lontano dalla base e a piedi rendeva nervoso anche Coriolanus ma lo attribuiva al caos di emozioni che stava vivendo si sentiva elettrizzato poi atterrito ora sicuro di sé ora enormemente insicuro all'idea di vedere Lucy Gray avrebbe voluto dirle così tante cose farle così tante domande che non sapeva da che parte cominciare forse solo da un altro di quei lunghi lenti baci dopo una ventina di minuti arrivarono al forno magazzino per il carbone in giorni migliori la produzione ridotta ne aveva determinato l'abbandono forse il proprietario era qualcuno di Capital City se non Capital City stessa ma il posto non presentava tracce visibili di sorveglianza o manutenzione lungo le pareti alcune bancarelle improvvisate esponevano cianfrusaglie di vario tipo per lo più di seconda mano tra gli oggetti in vendita Coriolanus vide di tutto da mozziconi di candela a conigli morti da sandali intrecciati artigianali a occhiali da vista incrinati lo preoccupava la possibilità che subito dopo l'impiccagione la gente li trattasse in modo ostile ma nessuno pareva degnarli di una seconda occhiata e gran parte della clientela era arrivata dalla base Smiley che nel suo distretto aveva già avuto a che fare con il mercato nero sacrificò strategicamente un biscotto alla degustazione rompendolo in 12 pezzetti e permettendo assaggi alle persone che riteneva probabili compratori la magia di Ma colpì nel segno e tra scambi diretti con i contrabbandieri e denaro di altre parti interessate finirono per disporre di una bottiglia da un litro di liquore trasparente così forte che l'odore fece lacrimare gli occhi a tutti questa è roba buona garantì Smiley qui la chiamano liquore bianco ma in sostanza è il nostro whisky presero tutti un sorso il che provocò una serie di colpi di tosse e pacche sulla schiena quindi misero da parte il resto per lo spettacolo ancora in possesso di un po' di popcorn caramellati Coriolanus si informò sui biglietti ma i presenti lo liquidarono con un gesto della mano i soldi li prendono solo dopo disse un uomo farai meglio a procurarti un posto se ne vuoi uno buono ci sarà un sacco di gente la ragazza è tornata procurarsi un posto significava trovare una vecchia cassa una bobina per cavi o un secchio di plastica e individuare un posto da cui si vedesse il palcoscenico che non era molto più di un insieme di bancali di legno a un'estremità del forno Coriolanus scelse di piazzarsi contro la parete al centro nella semioscurità Lucy Gray non lo avrebbe notato molto facilmente ed era quello che voleva gli serviva tempo per decidere come avvicinarla aveva saputo che lui era lì forse no chi avrebbe dovuto dirglielo in tutta la base era solo nobile e nessuno accennava mai alle sue imprese negli Hunger Games calò il buio e qualcuno girò un interruttore attivando un guazzabuglio di luci unite da un cavo antiquato e svariate prolunghe dall'aria sospetta Coriolanus cercò l'uscita più vicina in previsione dell'inevitabile incendio tra la vecchia struttura di legno e la polvere di carbone sarebbe bastato un istante perché una scintilla trasformasse quel posto in un inferno il forno cominciò a riempirsi di una mescolanza di pacificatori e abitanti prevalentemente uomini ma anche di un buon numero di donne dovevano essersi radunate quasi 200 persone quando un ragazzo magrolino sui 12 anni con un cappello decorato da piume variopinte salì sul palco e collegò un microfono portando un cavo fino a una scatola nera posizionata su un lato trascinò una cassa di legno dietro il microfono e si ritirò in una zona delimitata da una coperta lisa la sua apparizione aveva fatto scattare qualcosa nel pubblico perché gli spettatori presero a battere le mani all'unisono in modo contagioso tanto che Coriolanus si ritrovò a unirsi a loro alcune voci si levarono a chiedere che lo spettacolo iniziasse e proprio quando sembrava che non sarebbe mai successo da un lato scostato della coperta uscì una ragazzina con un vestito rosa svolazzante che fece una riverenza agli spettatori il pubblico esultò quando la piccola cominciò a suonare un tamburo appeso al collo con una cinghia e a ballare fino a raggiungere il microfono wow Moe D'Ivory urlò un pacificatore vicino a Coriolanus e lui capì che si trattava della cugina di cui gli aveva parlato Lucy Gray quella che ricordava ogni canzone che sentiva un tantino esagerato per una bambina così piccola non doveva avere più di otto o nove anni Moe D'Ivory saltò sulla cassa posta dietro al microfono e salutò la gente con la mano buonasera a tutti grazie per essere usciti fa abbastanza caldo per voi disse con una voce dolce e acuta e il pubblico rise beh noi abbiamo intenzione di far salire ancora un po' la temperatura io mi chiamo Moe D'Ivory e sono lieta di presentarvi i covi la folla batte le mani e lei continuò a profondersi in ampi inchini finché gli applausi non si placarono abbastanza da permetterle ed iniziare le presentazioni al mandolino Tom Ember da dietro la tenda uscì un giovane uomo alto e scarno dal cappello piumato che strimpellava uno strumento simile a una chitarra ma con una cassa armonica che somigliava più a una lacrima andò dritto accanto a Moe D'Ivory senza salutare il pubblico le dita che si muovevano agili sulle corde il ragazzino che aveva collegato il microfono apparve subito dopo con un altro strumento a corda e questo è Clerc Carmine al violino annunciò Moe D'Ivory mentre lui attraversava il palco suonando e Barb Hazor al contrabbasso trasportando uno strumento che sembrava la versione gigante di un violino una giovane donna slanciata con un abito azzurro a quadretti che le arrivava alle caviglie rivolse al pubblico un timido saluto con la mano mentre si univa agli altri e ora direttamente dalle scene di Capital City l'unica e sola Lucy Gray Bird Coriolanus trattenne il respiro quando la vide salire piroettando sul palco la chitarra in mano le balze del vestito verde acido che le si allargavano intorno i lineamenti illuminati dal trucco gli spettatori si alzarono in piedi lei si avvicinò sgambettando leggera mentre Tam Ember spostava più indietro la cassa di Moe D'Ivory e prese il centro della scena davanti al microfono ciao distretto 12 ti sono mancata sorrise quando i presenti le risposero con un boato scommetto che non vi aspettavate di rivedermi e neanch'io mi aspettavo di rivedere voi ma sono tornata accidenti se sono tornata spinto dai compagni un pacificatore si avvicinò imbarazzato al palco e le tese una bottiglia di liquore bianco mezza piena bene bene questa cos'è per me chiese lei prendendo la bottiglia il pacificatore fece un gesto per indicare che era per tutto il gruppo dunque lo sapete tutti che ho smesso di bere quando avevo 12 anni dal pubblico venne una grande risata cosa c'è è vero certo non c'è niente di male ad avere un po' d'alcol sottomano a scopo curativo grazie mille lo apprezzo davvero esaminò la bottiglia poi scoccò uno sguardo d'intesa ai presenti e beve un sorso per sturarmi le tubature esclamò con aria innocente in risposta alle grida sapete mi trattate così male che non so perché continuo a tornare però lo faccio mi ricorda quella vecchia canzone Lucy Gray sfiorò le corde della chitarra e girò lo sguardo sugli altri covey riuniti in uno stretto semicerchio davanti al microfono va bene passerotti uno due un due tre e la musica iniziò allegra e vivace curiolanus cominciò a tenere il tempo con il tallone prima ancora che Lucy Gray si chinasse sul microfono il mio cuore è stupido sicuro non in colpo cupido che è solo un bebè sparagli prendilo a calci uccidilo lui torna sempre strisciando da te il cuore è ben strano non sente ragione ci attiri le api a ogni stagione pungilo torcilo regalagli un flirt lui torna sempre strisciando da te vorrei fosse importante quella tua scelta di romperlo perché hai infranto quella cosa con cui amo ti ha lusingato quella idea di poterlo cestinare ecco perché hai malmenato quella cosa con cui amo Lucy Gray lasciò il microfono per permettere a Clark Carmine di farsi avanti e impreziosire la melodia con i suoi virtuosismi al violino affiancato dagli altri Coriolanus non riusciva a distogliere lo sguardo dal viso di Lucy Gray acceso come non lo aveva mai visto ecco com'è quando è felice pensò è bellissima bellissima in un modo che chiunque era in grado di vedere non solo lui il che poteva essere un problema la gelosia gli punse il cuore però no lei era la sua ragazza giusto? ricordò la canzone che aveva cantato all'intervista sul tizio che le aveva spezzato il cuore e studiò i covi per individuare un plausibile sospetto c'era solo Tam Ember con il suo mandolino ma tra loro non volavano scintille uno del posto magari? il pubblico applaudì Clark Carmine e Lucy Gray riprese la scena hai imprigionato il mio cuore non sei stato ai patti la gente ridacchia per come lo tratti legalo strappalo spoglialo lui torna sempre strisciando da te il mio cuore salta come un coniglio il sangue scorre senza battere ciglio prosciugalo affliggilo sono pazza perché lui torna sempre strisciando da te brucialo rifiutalo non restituirlo rompilo cuocilo non aspettarlo distruggilo stendilo chi se ne frega lui torna sempre strisciando da te dopo l'applauso e una buona dose di urla il pubblico si calmò di nuovo pronto ad ascoltare come Lucy Gray gli aveva raccontato i covi avevano un repertorio ampio e variegato che comprendeva anche brani solo strumentali alcuni dei musicisti ogni tanto uscivano di scena scomparendo dietro la coperta per lasciare il palco a un duetto o a un solista tamember si dimostrò un fuoriclasse del mandolino conquistando la folla con le sue dita veloci mentre il viso rimaneva privo di espressione e distante modaivori beniamina del pubblico intonò una canzone cupa e divertente sulla figlia di un minatore che era annegata e incitò gli spettatori a unirsi a lei nel coro cosa che a sorpresa fecero in molti ma forse non era così sorprendente dato che quasi tutti erano ormai grandi amici oltre che brilli oh mia cara oh mia cara oh mia cara Clementine i sorridi come ai giorni d'una favola lontan certi brani erano quasi incomprensibili con parole sconosciute di cui Coriolanus faceva fatica a cogliere il senso erano pezzi ricordò quello che gli aveva detto Lucy Gray risalenti a un'altra epoca nell'eseguire questi in particolare i cinque covi sembravano quasi chiudersi in loro stessi ondeggiando e costruendo con le loro voci armonie articolate a Coriolanus non piaceva quella musica lo turbava si sorbia almeno tre canzoni di quel genere prima di rendersi conto che gli ricordavano le ghiandaie imitatrici per fortuna molti dei brani erano più recenti e più di suo gusto ma soprattutto si conclusero con il pezzo che riconobbe dalla mietitura no signore quello che puoi togliermi non merita il fango prenditelo perché lo regalerei tanto non piango quello che puoi togliermi non meritava di essere conservato la cui ironia non sfuggì al pubblico Capitol City aveva cercato di togliere tutto a Lucy Gray e aveva fallito completamente quando l'applauso si spense lei fece un cenno a moda ivory la bambina corse dietro alla coperta e ricomparve portando un cestino intrecciato di nastri dai colori vivaci grazie di cuore disse Lucy Gray beh sapete tutti come funziona non facciamo pagare il biglietto perché a volte le persone affamate sono quelle che hanno più bisogno di musica ma anche a noi viene fame perciò se volete fare un'offerta moda ivory sarà in giro con il cestino vi ringraziamo fin d'ora i quattro covi più grandi suonarono in sottofondo mentre moda ivory correva qua e là in mezzo al pubblico raccogliendo monete nel suo cestino tra tutti e cinque Coriolanus e i suoi compagni avevano solo pochi spiccioli ma moda ivory li ringraziò con una educata riverenza aspetta disse Coriolanus vi piacciono i dolci sollevò un lembo della carta marrone che avvolgeva gli ultimi popcorn caramellati per farle dare una sbirciata e moda ivory sgranò gli occhi tutta contenta Coriolanus li mese tutti nel cestino visto che comunque erano stati destinati all'acquisto dei biglietti si conosceva ma dovevano essere in arrivo altri pacchi moda ivory fece una piccola piruetta di ringraziamento attraversò in fretta la folla e corse sul palcoscenico dove tirò lucy gray per la gonna e le mostrò i dolci nel cestino Coriolanus vide le labbra di lucy gray formare un oh e chiedere da dove fossero arrivati sapeva che quello era il momento giusto e si ritrovò a muovere un passo per uscire dall'ombra sentì un formicolio di aspettativa percorrergli il corpo mentre moda ivory sollevava la mano a indicarlo cosa avrebbe fatto lucy gray lo avrebbe ringraziato ignorato lo avrebbe riconosciuto cambiato come era e trasformato in un pacificatore gli occhi della ragazza seguirono il dito di moda ivory fino a posarsi su di lui un'espressione perplessa le attraversò il viso poi il riconoscimento e infine la gioia scosse la testa incredula e rise va bene va bene questa è questa è forse la sera più bella della mia vita grazie a ognuno di voi per essere venuto che ne direste di un'altra canzone per darvi la buonanotte magari mi avrete già sentito cantarla ma a capital city ha preso un significato del tutto nuovo per me penso che capirete perché Coriolanus tornò al suo posto lei sapeva dove trovarlo ormai per ascoltare assaporare il loro incontro vero e proprio al quale mancava solo una canzone i suoi occhi si riempirono di lacrime quando lei iniziò il brano che aveva eseguito allo zoo giù nella valle sopra il terrapieno a sera inoltrata senti il fischio del treno il treno amore senti il fischio del treno a sera inoltrata senti il fischio del treno Coriolanus sentì un gomito rifilargli un colpetto nelle costole diede un'occhiata e vide Sejanus che gli rivolgeva un sorriso a 32 denti in fin dei conti era bello avere qualcun altro che conosceva il valore di quella canzone qualcun altro che sapeva cosa avevano passato costruiscimi un palazzo fallo così alto che io possa vedere il mio amore passare vederlo passare amore vederlo passare che io possa vedere il mio amore passare sono io avrebbe voluto dire Coriolanus a tutti quelli che aveva intorno sono io il suo amore e le ho salvato la vita scrivimi una lettera spediscila per posta per la prigione di Capitol serve il nulla osta il nulla osta amore serve il nulla osta per la prigione di Capitol serve il nulla osta avrebbe dovuto salutarla prima o soltanto baciarla le rose sono rosse amore blu sono le viole sanno che ti amo gli uccelli in volo sotto il sole baciarla baciarla e basta in volo sotto il sole amore sotto il sole sanno che ti amo gli uccelli in volo sotto il sole buonanotte a tutti spero di vedervi la settimana prossima e fino ad allora continuate a cantare la vostra canzone disse Lucy Gray e tutti i covi fecero un ultimo inchino tra gli applausi del pubblico sorrise a Coriolanus lui cominciò a spostarsi nella sua direzione schivando gli spettatori che raccoglievano le loro poltrone di fortuna da accatastare di nuovo nell'angolo intorno a lei si erano raccolti alcuni pacificatori e Lucy Gray chiacchierava con loro ma Coriolanus vedeva che i suoi occhi guizzavano spesso dalla sua parte si fermò per darle il tempo di liberarsi e per godersi lo spettacolo di una Lucy Gray raggiante e innamorata di lui i pacificatori le stavano augurando la buonanotte e cominciavano ad allontanarsi Coriolanus si lisciò i capelli e si fece avanti erano lontani solo 4 o 5 metri ormai quando un trambusto all'interno del forno rumore di bicchieri che si rompevano e voci che protestavano gli fece voltare la testa un giovane dai capelli scuri più o meno della sua età vestito con una camicia senza maniche e un paio di pantaloni strappati all'altezza delle ginocchia si faceva largo a spintoni tra la folla che si divideva la sua faccia era lucida di sudore e i suoi movimenti suggerivano che con il liquore bianco avesse superato il limite già da un po' da una spalla pendeva uno strumento di forma quadrata con parte di una tastiera da pianoforte lungo un lato dietro di lui veniva la figlia del sindaco Mayfair che stava ben attenta a non sfiorare nemmeno i clienti la bocca stretta in un'espressione di disprezzo Coriolanus tornò a avvolgere gli occhi al palcoscenico dove uno sguardo fisso e gelido aveva preso il posto dell'espressione entusiasta di Lucy Gray gli altri componenti del gruppo la attorniavano con fare protettivo la leggerezza dello spettacolo che pian piano scivolava via per trasformarsi in una combinazione di rabbia e tristezza è lui pensò Coriolanus con assoluta sicurezza lo stomaco che gli si torceva fastidiosamente è l'innamorato della canzone con assoluta sicurezza di chiuderezza di chiuderezza di chiuderezza Grazie a tutti.